gruppi da 20, quindi prendete 7 ragazzi con i rispettivi genitori e fate un gruppo da 21 e quindi potete suddividere, anziché 20 fate 7 ragazzi, 7, 14, 21 con le famiglie e fare 3 gruppi da un'ora e quindi restringere a 7 famiglie in questo caso, quindi un focus gruppo di 7 famiglie per un'ora e così via di seguito. Almeno questo è ciò che offriamo noi come, cioè che è possibile pagare con i fondi del progetto, poi nulla impedisce alle scuole di prevedere una programmazione, un ampliamento a livello scolastico specifico. Il quarto e ultimo servizio proposto è un servizio di orientamento al lavoro, corredati questi servizi da offerte di stage, quindi in questo caso sono dei mini stage, 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 come si, stage, mini perché al massimo 10 ore. Questo punto 4, questo quarto servizio però è offerto ai ragazzi delle medie e delle, ecco un mini stage da offrire a gruppi, vedete la tipologia A, a gruppi di alunni delle classi terze di scuola secondaria di primo grado e a gruppi di alunni delle classi del bienio, quindi sono escluse le scuole primarie, non i comprensivi perché naturalmente possono prendere scuole medie. Quindi sono 19 le scuole che partecipano qui. In questo caso ogni scuola può individuare un tutor che per 10 ore verrà pagato dal progetto e quindi è possibile appunto individuare questa persona, per cui nella scheda che vi ho consegnato mi darete pure il nome di questo tutor per i mini stage. I mini stage dove verranno realizzati? Siccome non è che abbiamo, non erano rimasti moltissimi fondi e poi anche perché volevamo in qualche modo, cioè il nostro obiettivo non era quello di far viaggiare i ragazzi, ma quello di consentire agli studenti di avere un'opportunità anche minima di entrare nel mondo del lavoro e di conoscere da vicino una realtà produttiva, un'organizzazione aziendale, un'organizzazione di un ufficio, insomma in qualche modo svegliare, aprirli all'etica del lavoro, proprio aprirli perché poi si tratta di approfondire. Allora per poter far questo non è necessario andare lontanissimo, anche un'azienda, un ufficio, una realtà può essere pure la scuola stessa, adesso non voglio essere riduttiva proprio, però una qualsiasi realtà appunto lavorativa anche del comune di appartenenza della scuola può essere il luogo nel quale questi ragazzi potevano fare l'esperienza appunto di tipo professionale, di orientamento professionale. E allora si è pensato che la spesa in questo caso avrebbe riguardato il trasporto dei ragazzi dalla scuola alla biblioteca del paese o piuttosto che è un'azienda, che ne so, una tipografia che sta nella strada dietro o al centro della città di Lanciano. Quindi allora il costo era il trasporto urbano, naturalmente se in alcune realtà non lanciano né Ortona né Vasto ma in realtà di piccoli paesi, penso a Torricella o a Gessopale, insomma se nei paesi dove il trasporto urbano non è prevedibile e quindi potete anche rivolgervi al comune, magari se vi dà il trasporto in quel caso i fondi vengono risparmiati. Perché? Perché il costo, a parte le dieci ore di stage, quindi i diciannove tutor, uno per scuola, massimo dieci ore, quindi attività anche qui aggiuntive funzionali all'insegnamento, per gli insegnanti e quindi per i personali tutor. Le spese per le agenzie di viaggio per il trasporto urbano sono state calcolate massimo di, quindi devono fare tre viaggi, quindi tre spostamenti, quindi sei viaggi al massimo di un euro e quaranta, siamo rientrati in questa cifra che poi è il costo del biglietto urbano di Fonso di Lanciano. Io ho preso questo come riferimento, per cui o stiamo dentro a questi prezzi oppure lo mettete di proprio, meglio ancora se usate il comune, quindi me lo dite, io questi fondi poi li posso stornare, queste piccole decine, qualche decina di euro su un'altra spesa. D'accordo? Allora questo è il progetto, questi sono i servizi, le quattro tipologie di servizi che siamo riusciti a organizzare e che prevedono, cioè la cui somma complessiva sta dentro ai 50.000 euro. Le risorse organizzative, l'assemblea di rete, appunto, a pagina 17, siamo costituiti appunto da 22 dirigenti scolastici, il coordinamento e direzione del progetto, la scuola d'annunzio, il gruppo di monitoraggio, valutazione, abbiamo dovuto individuare anche un gruppo di monitoraggio perché è previsto tutta una serie di monitoraggi periodici delle attività e quindi tre dirigenti scolastici della scuola della rete che poi hanno già cominciato a lavorare, che sono il professore Orecchioni che oggi è assente ma era presente al momento della progettazione, Costanza Cavaliere e Cericola di Paglieta, il gruppo per quanto riguarda il monitoraggio, tre docenti delle loro scuole, due di SGA, l'annunzio e la signora Borrelli che ha partecipato alla progettazione anche, il gruppo di progettazione è quello che vi ho già nominato, l'organizzazione amministrativa è la DSGA della nostra scuola che ha supportato da un assistente amministrativo gestire tutta la parte amministrativa, contabile, logistica, tecnica, generale, poi le agenzie di viaggio le avete viste per i trasporti sia per i mini stage che per i seminari, le risorse professionali, qui ci sta la sintesi, le risorse professionali sono appunto i 19 tutor per l'orientamento per i mini stage, i 22 tutor per l'attivazione dei servizi di consulenza per il recupero didattico, i 22 collaboratori scolastici per l'apertura della pulizia delle scuole, per l'attività di consulenza, un esperto sulle tematiche relative alla pedagogia della famiglia, quattro esperti per i tre incontri perché sullo sport avevamo trovato due persone, quindi quattro esperti, possiamo anche individuarne di più però a costo zero. Un esperto qualificato come mediatore culturale, uno sulle problematiche psicosociali, e poi le equip psicopedagogiche dei comuni della scuola della rete, gli operatori del centro per l'impiego, quelli del CERT di Lanciano, io li ho indicati così, e soprattutto, io poi non ne ho parlato in modo specifico perché non sono retribuiti, però gli operatori del patto territoriale, nel senso che questa struttura è disponibile, come ha fatto già adesso, per la pubblicizzazione, intanto per la realizzazione di questi momenti di progettazione partecipata e condivisa, per la pubblicazione sul sito, finché non è pronto anche il nostro, ma comunque il portale del sito del patto è sicuramente per noi fondamentale, anche perché ce l'aggiornano in tempo reale, e quindi davvero un grazie fino ad oggi, ma poi anche in prospettiva, e poi non solo, ma anche per consulenze relativamente all'orientamento. Penso che il patto territoriale può essere, cioè io non so come fare questo stagio, ecco posso rivolgermi al patto per avere informazioni o un supporto logistico di consulenza in questa direzione. Sussidi, ecco non si compreranno sussidi perché i fondi vanno tutti per i servizi ai ragazzi, le aule multimediali le abbiamo nelle nostre scuole, dovessero servire per esempio per il recupero didattico, i siti web nelle varie scuole per la comunicazione, aule didattiche per i focus group, per l'incontro con i testimoni, più che aule didattiche forse qui dobbiamo mettere strutture, come una struttura delle varie città, strutture pubbliche appunto per la realizzazione di eventi educativi e culturali. I risultati attesi, io leggerò soltanto il primo fondamentalmente, che è lo sviluppo e il potenziamento di questa rete, sviluppo e potenziamento di una rete, della rete territoriale come realtà istituzionale visibile ed operante sul territorio, perché l'obiettivo del POR era proprio quello di istituire reti sul territorio. Quindi, allora, questa rete territoriale come realtà istituzionale visibile ed operante sul territorio, capace di interagire con sinergia e di incorporazione con altre agenzie formative e di servizi per la ottimizzazione appunto dei servizi ai giovani e alle famiglie. Quindi questa è un po' la finalità di fondo. E poi la rimotivazione allo studio, lo sviluppo di un sistema locale di apprendimento, lo sviluppo della scuola come centro di promozione educativa e culturale e così via di seguito.